. Mercato Juve, arriva una clamorosa novità sul futuro di Cristiano Ronaldo, ecco le ultimissime. . Il noto portale spagnolo specializzato in calciomercato Don Ballon ha riportato la notizia secondo la quale il Manchester United sarebbe già in contatto con Giorgio Mandes per riportare Ronaldo in Inghilterra e avrebbe pronto anche un assegno per la Juve da ben 130 milioni di euro. . Ma la bomba più clamorosa di queste ultimissime ore è stata sganciata da El Chiringuito TV, proprio il programma spagnolo che la scorsa estate ha svelato e seguito passo passo la trattativa che ha portato il fenomeno portoghese a Torino, Cristiano Ronaldo potrebbe fare ritorno al Real Madrid alla corte di Zidane. . . Un annuncio che di certo non può far rimanere sereni i tifosi bianconeri, ma Agnelli non avrebbe comunque nessuna intenzione di privarsi già del numero 7 più forte del mondo e sarebbe pronto a fare di tutto pur di convincerlo a rimanere. . Secondo la Gazzetta dello Sport, ora CR7 si aspetta interventi molto importanti sul calciomercato della Juve, che sarebbe disposta ad accontentarlo, e anche Repubblica ha parlato delle condizioni imposte da Ronaldo alla vecchia signora per rimanere ancora a Torino, cioè costruire una squadra ancor più forte per vincere finalmente la Champions League. Per questo i dirigenti bianconeri avrebbero già pronta una superlista di mercato con nomi da capogiro sui quali puntare, eccoli tutti. 1 grado. Il primo nome che sta stuzzicando molto la fantasia di Paratici in queste ore è quello del fenomeno egiziano Mohamed Salah, che in molti danno già per partente da Liverpool a fine stagione. Con lui e Ronaldo, la Juve avrebbe un attacco atomico. 2 grado. Un altro nome sicuramente graditissimo a CR7 è quello del connazionale Joao Felix, stella del Benfica sulla quale la Juve sta lavorando già da svariato tempo con l'intermediazione di Giorgio Mendes. 3 grado. Attenzione poi all'Hero Isanet, straordinario talento tedesco che potrebbe lasciare il Manchester City in estate. La Juventus lo apprezza moltissimo e continua a monitorarlo. 4 grado. Uno dei primissimi obiettivi del mercato bianconero in attacco rimane sempre Federico Chiesa della Fiorentina. L'assalto di Paratici per il gioiello italiano partirà sicuramente, ma non escluderà comunque altri grossi colpi. 5 grado. Non passa di moda neanche la suggestione Icardi, altro pallino del DS Juventino. Qualora la situazione dell'argentino con i nerazzurri non dovesse risolversi, la Juve è già in primissima linea per lui. 6 grado. Il vero e proprio sogno di calciomercato della Juve e del presidente Agnelli sarebbe Kylian Mbappé del PSG. Difficilissimo, anzi quasi impossibile arrivare al fuoriclasse francese, ma l'idea di un attacco stellare con lui e Cristiano Ronaldo insieme fa molta gola dalle parti della continanza e proprio l'acquisto di CR7 da parte della Juventus la scorsa estate ha dimostrato che nulla è veramente impossibile. Non solo grandi attaccanti però, la vecchia signora si sta ovviamente muovendo per rinforzare ogni reparto della rosa bianconera. Grazie a tutti.